La polizia di Stato di Livorno ha fermato una donna di 29 anni per furto di oggetti d'oro. La ragazza è stata incastrata dalle telecamere di sorveglianza di un'oreficeria dove in due diverse occasioni ha rubato alcuni oggetti in oro. La particolarità di questi furti consiste nel fatto che la stessa si accompagna con una carrozzina all'interno della quale c'è il figlio di pochi mesi. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno accertato che la ragazza cliente del negozio da molti mesi si reca una prima volta per acquistare un piccolo anello in oro. Mentre le commesse del negozio si danno da fare per proporre un'ampia scelta alla cliente, questa si preoccupa continuamente di badare al bambino che si agita nella sua carrozzina. Anche le impiegate vengono distratte da quello che sembra l'amore di una mamma e la donna ne approfitta per rafferrare un paio di monili e nasconderli nella tasca del giaccone. Quattro giorni dopo la ragazza si presenta di nuovo anche stavolta con bambino e carrozzina e come nella prima occasione approfittando di momentanea distrazione delle commesse sottrae quattro diversi monili d'oro. La donna di fronte alle contestazioni ammette i furti e indica anche il compro oro dove ha subito rivenduto i gioielli rubati che vengono recuperati dai poliziotti.